Siamo in zona bianca? Siamo in zona bianca domani, non ho capito male, siamo già in zona bianca. In zona bianca, io non sono d'accordo, oggi le chiusone me le bagno con la bagna, è zona ruia. Esatto, bagna del polsciato. Ria. E' buona. Allora, siamo qua a, come si chiama questo posto? Rascaccio. Saluto il mio amico Serafino Berlina, per questo la pizza era buonissima, pizza valtellina. Stiamo per sbucare a Surrau e siamo oltre metà dell'anello di stamattina, domenica, ultimo giorno di febbraio. Aria spessa, umida, però si inizia a cogliere qualche sentore di primavera. Siete d'accordo? D'accordissimo, d'accordissimo.